Oggi voglio parlarti del miglior modo di fare un pack, di quello più pratico, fra i più economici del sistema solare, ma soprattutto ti spiego come poterlo fare con strumenti frazionati e con un broker che, parla italiano, e che ha la più grande varietà di mercati e di strumenti possibili, per cui resta fino alla fine del video perché devo assolutamente parlarne perché penso che sia un delitto non esserne a conoscenza. Bentornati! Oggi video che ho veramente il piacere di fare perché ero a mia volta scettico in passato sulle dinamiche coinvolte, ma ora che lo sto provando ne sono rimasto veramente abbagliato. Per cui nel video di oggi, senza perdersi troppo in parole buttate al vento, andrò subito al dunque a quagliare sotto ogni punto di vista, cercando di essere pratico e di mostrarvi in maniera visuale con l'ausilio della registrazione dello schermo a cosa mi riferisco. Ecco il link qui sotto, ci sono moltissimi vantaggi, fra cui sconti e strumenti gratuiti che sono sempre ben accetti. Oggi vi parlo di Mexem, Introducing Broker e Partner di Interactive Brokers e di servizi gratis e di sconti eccezionali. Prima di parlare della creazione di un pack e dei vantaggi dei costi e fiscali, mi preme fare un attimo una disamina dei vantaggi e dei svantaggi di Interactive Brokers in assenza di un Introducing Broker, come può essere appunto Mexem. E mi preme farlo perché al altrimenti sarebbe troppo semplice recensire un prodotto solo per il gusto di andare a dare un'alternativa, senza avere delle solide basi. Tutti o quasi conosciamo le enormi potenzialità che ha Interactive Brokers, che ci propone la più vasta gamma di mercati disponibili credo in tutta l'intera Via Lattea, per cui su quello non si discute assolutamente. Grazie a Interactive Brokers tramite Mexem possiamo accedere a 135 mercati di 33 paesi diversi in 23 valute diverse, tutte le obbligazioni quotate su Aeronext e tutti i bond quotati sulle borse americane. Ma allora, se tutto questo lo offre Interactive, Mexem non serve a niente. Il problema di Interactive è che si tratta di un gigante quotato in borsa che offre questo mondo e quell'altro e per forza di cose deve concentrarsi sui mercati maggiormente interessanti, come quelli che parlano la lingua inglese, e dai clienti istituzionali o con molta esperienza, che sono quelli con tanti dobloni. Qui ci si perde nel marasma allora. Ed è qui che Mexem entra in tackle scivolato sulle ginocchia di questi problemi, perché può finalmente offrire tutto quello che Interactive non può per forza di cose offrire, come ad esempio una fantastica e velocissima assistenza in italiano, costi inferiori su alcuni mercati se utilizzate il link in descrizione per iscrivervi, del materiale educativo sull'utilizzo delle piattaforme, completamente in italiano, finalmente, assistenza fiscale completamente gratuita per i primi due anni se utilizzate il mio link sotto in descrizione, che vi aiuta a rielaborare il conto e a darvi su un piatto d'argento i dati che sono da inserire nella dichiarazione dei redditi. Andiamo ad approfondire questi aspetti appena citati nel video odierno ed aggiungo anche altre informazioni che credo possano farvi brillare gli occhi dalla felicità, ma prima vorrei parlarvi del pack di Mexem o di come lo chiama Interactive Brokers, degli investimenti ricorrenti che so che vi interessano molto. Allora io vado subito all'arrosto perché il fumo non c'è, per cui vi faccio vedere istantaneamente come funziona creare un bel pack su tutto quello che volete, in maniera semplice e senza giri di parole, perché è sempre un piacere creare un piano di accumulo in maniera frazionata con le aziende in cui crediamo e che amiamo per la loro solidità, ognuno poi ha la sua, qualunque esse sia, da quelle più piccole o anche quelle meno accessibili, magari anche per i costi proibitivi delle loro singole azioni o perché essendo molto volatili ci frenano nel fare un ingresso corposo, come vi avevo raccontato tempo fa in un video precedente per la mia posizione in Celsius Holdings. Andiamo a video a creare qualche piano di accumulo assieme. Quindi se vogliamo fare un pack con Mexem e quindi con Interactive cosa dobbiamo fare? Ve lo faccio vedere sia con la TWS che con l'Investor Portal. Per quanto riguarda la TWS si va su strumenti di trading e se non lo vedete potete comunque digitarlo, comunque sta qui Recording Investment. Digitando vi porta automaticamente all'Investing Portal. Se invece siete sulla pagina principale dell'Investing Portal possiamo cliccare su Trading e andare a cliccare su investimenti ricorrenti. Non lo rifaccio perché ce l'ho già aperto nell'altra pagina. Una volta posizionati su questa pagina si va su Crea un investimento ricorrente, si fa la ricerca solo per ticker, non per ISIN, per esempio in questo caso MSFT, troviamo Microsoft, clicchiamo qui Nasdaq, azione. Poi andiamo a decidere quando vogliamo cominciare questo piano di accumulo. Diciamo che io lo metto dal 5 febbraio in poi. Qual è l'importo dell'investimento? Diciamo 100€. L'intervallo, se voglio fare un investimento giornaliero, settimanale, bisettimanale, mensile fino all'annuale. E poi se voglio che questo termini ogni mese a una data specifica, oppure voglio selezionare il numero di rate, per cui un numero di investimenti. Per esempio, se facessi qui 12 investirei dal febbraio di quest'anno al febbraio dell'anno prossimo. Oppure, se voglio fare un pack perenne, non la lettera, basta cliccare sulla data di termine, cliccare su avanti e qui ci viene spiegato in questa pagina tutto quello che è il nostro investimento. Verifichiamo che le informazioni che abbiamo inserito siano quelle corrette. Qui sul lato sinistro ci vengono date alcune informative ovvie del tipo è necessario disporre della liquidità sufficiente per fare l'investimento e di fare in modo che appunto diversare magari in maniera cadenzata i vostri fondi in maniera tale che questo investimento possa avvenire. Poi viene spiegato anche come vengono fatto questo investimento, questo ve lo leggo per intero in maniera tale che possiate capire. Gli investimenti di correnti vengono evasi tramite ordini VWAP, Volume Weighted Average Price, inviati sulla base del minore sforzo di mercato aperto a ogni data di acquisto programmata. L'ordine di tipo Time Inforce si interrompe il giorno stesso alla chiusura del mercato. Tutti i clienti con investimenti di correnti dello stesso titolo nella stessa data ricevono lo stesso prezzo medio sul loro investimento. Se i mercati sono chiusi in una data di investimento di corrente programmata a causa ad esempio di una festa o di un fine settimana, gli ordini vengono effettuati il giorno di negoziazione successivo. Cosa vuol dire questa pappardella oltre al fatto che si sono chiusi i mercati si fa il giorno dopo? Che si fa un prezzo medio di mercato per cui la piattaforma fa un prezzo medio, si va sul mercato con quel prezzo medio rispetto al bid e al task e tutte quelle persone che vogliono quella tipologia di asset ricevono lo stesso prezzo in quella giornata. Si possono modificare o annulare in qualsiasi momento e verranno applicate le commissioni standard sulle transazioni relative agli investimenti ricorrenti. Questo cosa significa? Lo vedremo nelle commissioni. Comunque significa che qualunque strumento utilizzate sarà fatto pagare come da commissioni standard o scontate se usate appunto il link in descrizione del profilo commissionale che MXM vi mette a disposizione. Questo è bene che lo sappiate perché se volete fare investimenti di un euro alla volta sappiate che pagate il 50 per cento di commissione e più anzi del 50 per cento nel caso voi investiate appunto un euro solamente. Poi a questo punto salviamo l'investimento e il nostro piano di accumulo è creato. Lo troviamo qui poi nella nostra schermata e possiamo avere la cronologia cliccando qui degli investimenti fatti ma qui non ne sono stati fatti, modificare il piano di accumulo oppure cliccando sulla X annullarlo con effetto immediato. Easy peasy lemon squeezy come dicono in inglese. Vi ricordo che non tutti i prodotti sono disponibili in maniera frazionata ma solo quelli che vengono riportati sul sito ufficiale di Interactive. Parliamo di dobloni o denari, i costi questi odiati che tanto ci disturbano la digestione. Beh, da questo punto di vista si cade sulla bambaggia perché per noi investitori italiani i costi per investire in Europa sono di gran lunga minore rispetto a quelli che vi offre direttamente Interactive Brokers, mentre per quelli per il mercato statunitense sono solo leggermente superi, ma utilizzando il link che trovate qui sotto per iscrivervi a Mexem potete risparmiare tanti soldini e vi faccio vedere a schermo a breve di cosa parliamo con un'immagine creata ad hoc. Ma il vantaggio economico aggiuntivo è la fiscalità gratuita, cosa di cui parleremo a breve nel video che vi permette di non dovervi preoccupare di come compilare i quadri RW, RT ed RM che sono anche loro tanto odiati, ma come dicevo ne parliamo a breve, parliamo di costi. Allora se vogliamo parlare di queste fee, di queste commissioni, andiamo a dare solo quelle più importanti, quelle più interessanti, perché come sapete Interactive per cui a cascata Mexem ha una notevole quantità di mercati e per cui di tante commissioni diverse, non le posso elencare tutte, vi elenco quelle più interessanti, quelle più importanti. Per quanto riguarda il mercato USA, Interactive va a farvi pagare un dollaro di minimale di commissione, mentre Mexem solitamente farebbe pagare 2,50$, ma con il link qui sotto che trovate nella descrizione andreste a pagare 1,50$ di minimale. Questo 1,50$ è fino a 500 azioni, oltre tale numero andrete a pagare 0,005$ per ogni azione. Per quanto riguarda tutto il mercato europeo, con Interactive paghereste 4$ di minimale, mentre con Mexem andreste a pagare 1,80$ di minimale, fino a 3.000€ di valore investito. Oltre tale valore si paga lo 0,06% dell'importo investito. Poi cosa molto interessante invece è la conversione valuta, infatti si può convertire con una tariffa fissa di 5€ fino a 100.000€, che se si vanno a convertire grossi importi è molto ma molto conveniente. Ovviamente vi ricordo che a tutto questo pacchetto si va ad aggiungere anche la fiscalità gratuita per due anni, che non è da buttare assolutamente dalla finestra, perché ovviamente fa risparmiare tanti soldini a chi deve fare la dichiarazione di redditi relativa ai propri investimenti. E male non fa al pancino. Come mai si riesce ad ottenere tali costi quasi irrisori? Uno dei motivi più importanti è che Interactive Brokers e di conseguenza Mexem non sono dei market maker. Per chi non sapesse cos'è un market maker, questo è un intermediario finanziario spesso una società di brokeraggio o una banca di investimento che facilita la compravendita di strumenti finanziari nei mercati appunto finanziari. Il loro ruolo principale è di fornire liquidità al mercato rendendo più agevole e veloce l'esecuzione degli scambi, ma con dei costi solitamente di spread aggiuntivi, mentre con Mexem e Interactive si va direttamente al mercato, i costi sono ovviamente contenuti, senza conflitti di interessi con eventuali retrocessioni da parte di emittenti di ETF, forze e valori eccetera eccetera eccetera. Inoltre non fanno order flow o in italiano pagamento per flusso di ordini che dà l'acronimo di PFOF dove il broker si sostituisce al market maker come ad esempio fanno dei giro Trade Republic ma tanti altri sul mercato e per tale motivo ricevono una retrocessione da parte appunto del market maker per questo servizio. Una pratica che riduce notevolmente le commissioni che investe ma dai lati oscuri perché per avere una retrocessione maggiore il broker è come tale non investire al miglior prezzo sul mercato per conto di noi poveri investitori. E' da specificare che tale pratica è talmente oscura che nell'Unione Europea sarà vietata dal 2026. Ecco Interactive Brokers e come tale Mexem non utilizzano tali pratiche per dare costi migliori. Questo è quello che dovete fare se avete un conto broker in regime dichiarativo e non c'entra se il conto lo abbiate con Scalable, con Trade Republic, con DeGiro e via discorrendo. Dovete fare tutto da soli per riportare gli importi esatti nei vari campi. Alcuni broker in passato hanno inviato dichiarazioni errati ai propri clienti per più volte di fila e per più anni di fila. Mexem fa questo. Non il calcolo errato ovviamente ma si avvale di professionisti per la rendicontazione e l'assistenza fiscale che è gratuita per i primi due anni se utilizzate appunto il link presente qui sotto nella descrizione del video. Le assistenze fiscali sono curate da Health Lab, azienda che da 14 anni fa come unico mestiere proprio questo, quello di aiutare le persone a dichiarare i propri conti trading. E contando che Health Lab ha elaborato e aiutato a compilare più di 30.000 e a rotti report dichiarativi mi sembra un ottimo biglietto da vista per evitare errori di compilazioni che sono avvenuti con altri broker. Cosa che ci fa accapponare la pelle come diceva il noto comico Beppe Braida in uno dei suoi sketch di Zelig. Si tratta di un servizio sempre ben accetto perché come abbiamo detto prima Interactive purtroppo non aiuta sotto questo aspetto e la piattaforma non è neanche semplice da decodificare. Un altro punto di valore per Mexem. La scelta di un broker è importante per qualsiasi investitore, se esso trader o investitore a lungo termine e di servizio clienti è un tassello troppo spesso lasciato da parte ma è di vitale importanza. Forse uno dei pochi talloni di Achille di Interactive Brokers avendo tempi di attesa lunghissimi per le risposte e assistenza solamente in lingua inglese. E per questo punto Mexem viene in poderoso soccorso offrendo un servizio clienti fatto di persone che conoscono Interactive Brokers come le proprie tasche visto che è composto da professionisti con esperienza pluriannale nella piattaforma TWS ma soprattutto che parla italiano. Per molti di noi un enorme freno nell'utilizzo di Interactive. I professionisti di Mexem sono sempre in allerta per aiutare i clienti per 11 ore al giorno dalle 8.30 alle 19.30 e si sta parlando anche di un orario prolungato futuro per le due ore extra che servono per coprire il mercato americano fino alla sua chiusura. A tutto questo ovviamente si aggiunge una lunga serie di tutorial in italiano sull'utilizzo delle piattaforme di Interactive che se devo essere sincero ho usato in passato ed ho abbandonato per la enorme complessità e completezza anche che però mi facevano consumare valanghe di paracetamolo per il mal di testa che ne conseguiva. Ed ora finalmente ho dei video di gente esperta che me lo spiega per filo e per segno e come tale sto seriamente rivalutando la cosa. Vale la pena prima di andare a chiudere la disamina dimensionare dei servizi accessori che sono offerti e che magari come tutte le altre cose trattate in questo video possono essere approfondite se lo volete? Ovviamente fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Stock Yield Enhancement Program che definiamo con l'acronimo di SYEP. È un programma di prestito titoli che viene messo al sicuro tramite un collaterale in liquidità o con obbligazioni governative americane. Per chi vuole un altro piccolo introito il guadagno viene equamente ripartito a metà per cui il 50% alla piattaforma e il 50% al cliente che decide di prestare i propri titoli. Per usufruire di questo benefit dovete aprire un conto a margine con Interactive Brokers. Integrazione con TradingView. Per chi è uno smanettone e non ama solo gli investimenti a lungo termine ma anche il trading vero e proprio avrà solo piacere a sapere che è possibile integrare la piattaforma di TradingView al conto Mexem e per cui tutte le operazioni possono essere fatte direttamente da TradingView in base alle vostre esigenze o alle vostre preferenze e gli ordini saranno effettuati su Mexem. Cosa che potrebbe essere interessante per chi ama fare tante analisi. Ma continua a trovare la TWS di Interactive Brokers sempre complicata anche se ha guardato tutti quanti i tutorial in italiano offerti da Mexem. Fundamental Explorer, una nuova funzione della piattaforma che permette di avere un quadro completissimo di analisi fondamentali sui vari titoli che vorreste analizzare e che di semplice utilizzo e questo detto sulla TWS sembra un ossimoro ma vi faccio vedere subito come è semplice utilizzarla. Dove lo troviamo? Sulla TWS andiamo su strumenti di analisi e possiamo andare qui in basso Fundamentals Explorer. in beta. Qui in alto come ci dice andiamo a selezionare il simbolo, una a caso MSFT, chi sarà mai? E troviamo Microsoft, appunto clicchiamo Microsoft, allarghiamo un attimino la finestrina così si vede un po' meglio. Andiamo a vedere tante informazioni sulla società, prima di tutto chi è Microsoft ma non penso ci siano presentazioni necessarie, il rating di Morningstar, la valutazione di rischio ESG e tutti i dati che sono interessanti a chi magari ha interesse a investire nell'ESG, abbiamo anche il punteggio qui per ogni funzione, environmental, social e governance, il rating degli analisti per il prezzo rispetto al prezzo attuale quindi si aspettano un 4.68% in più, dati sulle previsioni degli utili per azione, dati sulla proprietà da parte dell'azienda, date importanti per quanto riguarda l'azienda, in questo caso il 30 gennaio a breve ci sarà la earnings release e la stiamo aspettando tutti, anche io che non ce l'ho perché come molti di voi sanno, se mi seguite, è la mia azienda preferita ma non ce l'ho in portafoglio perché non sembra non fermarsi mai. Oltre informazioni sul profilo societario che possiamo trovare qui abbiamo anche degli indicatori chiave per cui il PE, il Price to Book, il Price to Tangible Book, il Price to Sales e tutte le altre metri che possono interessare dal punto di vista fondamentale, i dividendi, qual è la crescita dei dividendi nel tempo, quando sono stati distribuiti e qual è il payout ratio, il dividend yield dell'azienda, il dividend 12 trillion months e quindi anche l'importo dei dividendi e qual è l'ultimo stacco, l'impatto dal punto di vista ESG, l'abbiamo visto in una schermata iniziale, i dati finanziari che possiamo trovare sia in versione trimestrale, per cui delle ultime 4 trimestrali, che in versione annuale, gli ultimi 4 anni, abbiamo a vedere tutte le metri che qui sia per quanto riguarda lo stato patrimoniale, i flussi di cassa e il reddito, rating degli analisti anche in questo caso con tutte le informazioni necessarie, le previsioni future degli analisti, sia per il net income come un po' tutti quelli che sono i dati finanziari dell'azienda, notizie importanti sull'azienda, che possono impattare appunto quello che è l'azienda stessa, la proprietà che appartiene, può per avere anche soprattutto nelle piccole aziende per capire quanto i proprietari stanno ancora all'interno dell'azienda, il sentiment di mercato, la richiesta diventa short, al momento è pochissimo come potete vedere, il prestito titoli e poi alcuni technical insight, se fate analisi tecniche e volete investirci, infine nell'ultima pagina una piccola schermata che va a riepilogare un po' qualche informazione importante che abbiamo visto nelle schermate precedenti. Beh, a mio parere ho trovato un poderoso compromesso fra la volontà di impiare la qualità e la quantità dei mercati che voglio utilizzare e la possibilità di operare anche in regime dichiarativo senza sentire nel peso per l'enorme barriera derivante dalla dichiarazione fiscale che è sempre un bel talone di Achille, poi con costi che sono ridicoli se si pensa a quelli dei regimi amministrati. Ovviamente è un conto non per tutti, ma tutti possono utilizzarlo sicuramente, per chi ha già un conto Interactive Brokers è sicuramente un plus, ma soprattutto per quelle persone frenate da alcuni limiti linguistici, di supporto e di dichiarazione troppo complessa che ora si trovano una bella strada in discesa e che possono accedere praticamente a tutti i mercati che gli vengono possibilmente in mente. Ti ricordo che tutti i vantaggi dei quali ho parlato in questo video sono attivabili se ti iscrivi tramite il link che trovi in descrizione. E nel caso di dubbi, i ragazzi e le ragazze del preparatissimo team di Mixem sono lì a risponderti in italiano in tempi brevissimi o chiedete pure a me se posso aiutarvi. Beh voletieri, se l'avessi saputo qualche anno fa che tutto questo era disponibile. Ve li risintetizzo per chiarezza, se vi scrivete tramite il link in descrizione otterrete uno sconto sul minimale per operare sulle azioni americane che viene portato da 2.5 dollari a 1.5 dollari e poi due anni di assistenza fiscale gratuita per compilare i quadri relativi ai vostri investimenti. Cosa ne pensate della piattaforma e degli sconti che vi offre? Mi raccomando iscriviti e sostienimi con un pollice in su o meglio su Patreon a costo di una colazione al mese e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!